Ciao Alexandra, rieccoci qui, ho l'immenso piacere di avere accanto a me Riccardo Pozzoli, imprenditore dalla storia che tutti noi sappiamo, anche grazie a un'intervista che facciamo un po' di tempo fa a proposito di un suo libro. Innanzitutto, prima tua opinione vedendo un po' questa sala. Beh, insomma è super emozionante essere qui stasera, la location ti ispira proprio a business, ti ispira a imprenditorialità e quindi essere qui è veramente molto emozionante, sono sinceramente emozionato. Ci fa molto piacere. Sono dieci anni fondamentalmente che ti vediamo in diverse faccende a faccendato, come si diceva una volta, però leggevo in un'altra recente intervista che dicevi rifare quello che abbiamo fatto dieci anni fa oggi sarebbe quasi impossibile, perché? Sai, come tutte le esplosioni di un media o di fenomeni come quello che abbiamo vissuto nel mondo dei social media, chiaramente vanno fatte nel momento che il media stesso sta esplodendo. Quando io cominciai esattamente nell'ottobre, tra l'altro esattamente dieci anni fa, del 2009, Instagram non c'era, Snapchat non c'era, TikTok non c'era, il mondo anche proprio del concetto di digital startup in Italia, bene o male in Europa era molto diverso, il mercato era completamente differente, quindi era tutto molto più facile per una competizione molto minore, ma anche abbastanza impegnativo per il fatto che poi bisognava spiegare magari qualcosa di più al mercato. Chiaramente il timing in questo genere di business è fondamentale, noi eravamo nel posto giusto al momento giusto, replicare oggi un qualcosa simile è praticamente impossibile. Certo ci sono X maniere di fare molto bene, di fare cose diverse, anche migliori assolutamente, ma certamente differenti, questo senso non di dubbio. Ecco, se tu dovessi dare tre consigli a chi vuole fare l'imprenditore oggi e soprattutto come deve comunicare la propria azienda, che tre consigli daresti? Beh, questa è una domanda impegnosa, ho fatto un paio di libri a riguardo, quindi sintetizzarlo Sintetizzarlo in tre risposte non è facile, sicuramente un qualcosa che secondo me oggi è fondamentale è riuscire a costruire bene o male qualsiasi business e qualsiasi industry un talento si voglia lanciare sicuramente cercare di costruire e avere bene in mente qual è il proprio DNA e qual è la vision che si vuole fare. Oggi abbiamo un po' tutti i mercati mondo fashion, food, mobility, hospitality, whatever, sono estremamente crowded e grazie anche la comunicazione che abbiamo in giro per il mondo, la competizione non è solo del tuo vicino di casa ma è anche quella del tuo possibile competitore in Australia, quindi a maggior ragione riuscire ad avere un DNA molto forte e riconoscibile è fondamentale per riuscire a crearsi la propria posizione nel mercato. Questo è sicuro, come stavo dicendo sicuramente la comunicazione diventa fondamentale, ancora di più forse che vent'anni fa. Oggi possiamo riuscire a raggiungere un consumatore del nostro prodotto, servizio, qualsiasi cosa sia, dall'altra parte del mondo, quindi non andare ad inseguire questa opportunità sarebbe un grave errore, quindi utilizzare l'inglese per quasi tutto quello che si fa, cercare di utilizzare anche piattaforme che funzionino globalmente, dei codici comunicativi che funzionino globalmente, sia nel momento che vogliamo intrattenere con dei contenuti oppure vendere un prodotto, quindi anche questo è fondamentale. E poi che dire, sicuramente da giovane imprenditore io penso sempre che bisogna continuare a sognare, questo è un consiglio che bisogna fare, quindi oggi forse più che in altri periodi si ha veramente la possibilità di cambiare le regole, quindi anche sognare un pochino fuori dal coro e si può fare perché il mercato sta cambiando, sta cambiando in quasi tutte le industrie, il consumatore si sta evolvendo, sta cambiando il modo in cui consuma, in cui si informa, nel modo in cui viaggia, nel modo in cui mangia, quindi perché no, insomma sogniamo anche di cambiare le regole. Assolutamente, sognare, perdonami la domanda, un po' cattivella, anche fare un documentario in cui dare la tua versione dei fatti. Questo è un qualcosa che ognuno può scegliere come comunicare, io scelgo i miei modi, i miei libri. Perfetto, io ringrazio nuovamente Riccardo Pozzali per essere stato qui con noi, nostra compagnia, ma lo rivedremo più tardi, più tardi, quindi insomma restate con noi. Grazie ancora, c'è da te la linea, Alexandra. Grazie. Grazie.